Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Sequestrato in una banca svizzera il presunto Leonardo all'opera il ritratto Isabella d'Este ed inestimabile valore tra gli indagati anche due avvocati uno di Fano e l'altro di Pesaro Mal tempo, ecco come fare per presentare la documentazione necessaria per il risarcimento dei danni Versate nella notte sostanze inquinanti nel canale Albani forse volevano colpire gli animali Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia l'avete sentito nei titoli Sequestrato nel cavo di una banca svizzera un ritratto di inestimabile valore attribuibile a Leonardo da Vinci il ritratto di Isabella d'Este trafugato appunto all'estero I particolari di questa vicenda sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa nel tribunale di Pesaro dal procuratore della Repubblica capo Manfredi Palumbo Tutti particolari nel servizio di Simona Zonghetti Sono una settantina le persone finite nel mirino della procura fra cui persone di Fano e di Pesaro compresi due avvocati Dopo una complessa indagine internazionale avviata nel 2013 è stato possibile sequestrare un dipinto attribuito dal professor Carlo Pedretti a Leonardo da Vinci raffigurante Isabella d'Este e depositato in un cavo di una banca svizzera dal valore stimato di 95 milioni di euro Le operazioni iniziarono quando arrivò una segnalazione su un avvocato del foro pesarese che aveva il mandato a vendere il ritratto un olio su tela I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico di Ancona avevano scoperto che il quadro era stato esportato clandestinamente per questo motivo partì una richiesta urgente per procedere a sequestro del quadro cui l'autorità giudiziaria di Lugano diede immediatamente esecuzione ma gli investigatori trovarono il cavo vuoto L'opera infatti era stata prelevata dai proprietari e portata altrove proprietari che come affermato dal procuratore capo della Repubblica di Pesaro Palumbo Manfredi pare siano difano Anche questa titolarità dell'opera va verificata perché possono essere anche loro delle marionette in mano a interessi più grossi Le indagini si sono poi incrociate con quelle della Guardia di Finanza di Pesaro su una serie di truffe e danni di alcune compagnie di assicurazioni Alcuni nomi di indagati risulterebbero nell'una e nell'altra inchiesta Il dipinto invece è stato poi localizzato in una banca privata di Lugano il luogo in cui è stato sottoposto a sequestro non appena gli investigatori hanno avuto la certezza che erano in corso trattative di vendita quasi concluse per un importo di circa 120 milioni di euro Curiosamente il ritrovamento della preziosa opera avviene proprio nel quarantennale del clamoroso furto a Palazzo Ducale di Urbino di tre capolavori della storia dell'arte tra cui la muta di Raffaello la flagellazione e la madonna di Snigaglia di Piero della Francesca rubati nella notte tra il 5 e 6 febbraio 1975 e ritrovati circa un anno dopo in un hotel di Locarno sempre in Svizzera i due episodi però non sembrano avere nessun collegamento fra loro Giornata di soddisfazioni e di anniversari che ci lega a questa meravigliosa terra marchigiana in particolare alla Montefeltro che fu culla di cultura, di civiltà mi permetto di aggiungere lei diceva nella sua domanda il furto del secolo io parlerei anche di recuperi del secolo perché la tenacia investigativa dei nostri padri e la perseveranza, la passione degli uomini e delle donne di oggi hanno consentito di riportare segmenti essenziali della nostra eredità culturale ed ora parliamo di danni ambientali e di strane sostanze perché i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti ieri sera intorno alle 23.45 lungo il canale Albani in Viale Kennedy a Fano dopo la segnalazione di uno sversamento oleoso visibile ad occhio nudo hanno provato a risalire il corso d'acqua ma la corrente ha impedito i pompieri di verificare se ci fossero altre macchie d'olio hanno così avvertito l'ARPAM che è giunta sul posto per prelevare un campione ora verrà analizzato per stabilire con certezza il tipo di liquido poi si cercherà di capire chi produce in zona questa sostanza inquinante e se è stata versata nel canale per far del male agli animali e si è svolto nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna il Consiglio Comunale straordinario sulla giornata del ricordo delle foibe è stato commemorato oggi il giorno del ricordo una solennità civile nazionale celebrata il 10 febbraio di ogni anno istituita con apposita legge nel 2004 l'obiettivo è quello di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe riflettere sui massacri dell'esodo Giuliano Dalmata per l'occasione a Fano è stato dedicato un consiglio comunale straordinario che si è svolto al Teatro della Fortuna alla presenza degli istituti superiori dei consiglieri comunali e dello storico Costantino Di Sante il presidente Renato Claudio Minardi ha aperto la seduta ricordando questa parte importante della storia dove tra il 1943 e il 1945 sono stati compiuti errori contro l'umanità operando di fatto una pulizia etnica serve sicuramente dicevo la cultura della tolleranza la cultura del rispetto perché dalla tolleranza del rispetto si alimenta la pace si costruisce la pace vorrei ricordare le parole dell'emerito presidente della Repubblica Napolitano che ha parlato di silenzio della congiura del silenzio un silenzio omertuoso che sicuramente non ha aiutato a ricostruire questa vicenda non deve essere solo un rito una cerimonia detto Minardi ma deve essere anche un momento nel quale approfondire la vicenda facendo luce sugli avvenimenti spesso taciuti da chi politicamente ha permesso che migliaia di italiani venissero gettati nelle cave carsiche poi la parola è passata a Samuele Mascarin l'assessore alla memoria si auspica che giornate come queste siano solo l'inizio di un impegno sociale forte solo così ha detto saremo in grado di costruire un nuovo mondo condiviso e capace di parlare al futuro l'impegno che oggi in qualche modo abbiamo provato a condividere è stato quello di un futuro dove queste parole nazionalismo guerra dittature siano bandite una volta per tutte a ricostruire poi le fasi di questa pagina di storia che sino dieci anni fa è stata ignorata è stato il professor Costantino Di Sante direttore dell'istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino un pezzo di storia che è stato nascosto per 60 anni perché questo? le motivazioni sono diverse sicuramente furono delle scelte politiche dei governi che si seguirono nel dopoguerra anche condizioni geopolitiche dentro la guerra fredda e sicuramente voler parlare della tragedia delle foibe dell'esodo dove voleva dire anche parlare di tutta una serie di aspetti che avevano coinvolto gli italiani durante la seconda guerra mondiale non ultime l'occupazione nei territori balcanici e i crimini di guerra commessi anche da noi italiani Sindaco secondo lei qual è la vera sfida oggi? La vera sfida è quella di ricercare una storia condivisa perché questa è la forza non bisogna avere paura di raccontare attraverso la storia la verità anche quando può essere scomoda ad una nazione ad una popolazione ad una forza politica la libertà è dire la verità allora questo è il messaggio che ho voluto trasmettere ai ragazzi per cui queste giornate siano giornate di riflessione di comprensione di presa di coscienza soprattutto per evitare che certe atrocità certi errori si possano ripetere in futuro Ed ora parliamo del maltempo e dei danni causati alle infrastrutture tutti i cittadini che hanno subito dei danni hanno tempo fino a venerdì prossimo per presentare nel comune di Fano la documentazione necessaria per ricevere l'eventuale risarcimento vediamo in questo servizio come fare ad ottenerli Continua la conta dei danni dopo la mareggiata che si è abbattuta sulla costa nella notte tra giovedì e venerdì scorso calcoli precisi non sono ancora stati effettuati ma in modo approssimativo si potrebbe aggirare intorno al mezzo milione di euro e questa somma riguarda solo quelli recati alle opere pubbliche principali nella zona fra Sassonia e Lebrecce Le stime sono in corso di esecuzione ovviamente non è un'attività mai semplicissima ma comunque insomma sicuramente si aggirano su diverse centinaia di migliaia di euro teniamo conto che c'è da ricostruire Via La Ruggeri con interventi importanti in particolare e la passeggiata di Sassonia questi sono i due interventi più vistosi poi insomma le analisi sono in corso e la quantificazione insomma è in corso in pochi giorni e avremo i dati stiamo attendendo un attimo la regione perché se poi la modulistica fosse un po' diversa rispetto a quella già esistente non vorremmo creare disservizi la regione si sta attivando in queste ore per la richiesta dello stato d'emergenza per cui prossimamente ci manderà una comunicazione in merito invece per quanto riguarda la procedura di risarcimento come richiesto dal Dipartimento regionale della protezione civile i cittadini dovranno segnalare al comune di Fano i danni subiti alle attività economiche produttive con esclusione di quelle agricole e alle proprietà private la documentazione necessaria comprende i dati anagrafici con un recapito telefonico ed eventuale indirizzo mail la descrizione la quantificazione la localizzazione del danno subito più l'eventuale materiale fotografico il tutto dovrà essere indirizzato al sindaco Massimo Seri e dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 21 di venerdì 13 febbraio il materiale per la segnalazione può essere portato direttamente all'ufficio protocollo in via San Francesco 76 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30 oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.fano chiocciola emarche.it queste informazioni saranno presenti anche sul sito istituzionale del comune ebbene parliamo del furto avvenuto alla piscina Dini Salvalai lo scorso fine settimana i malviventi hanno procurato un grosso buco in una delle pareti della palestra adiacente alla piscina ora quello che preoccupa è anche il danno ambientale e l'amianto che si è disperso nell'ambiente l'ARPAM in azione anche in questo caso e fra pochi giorni ci saranno i risultati delle loro analisi vediamo sono molto limitati i rischi per la salute e per l'ambiente causati dalla dispersione di amianto dopo che i ladri nella notte tra venerdì e sabato scorsi si erano introdotti all'interno della piscina Dini Salvalai rompendo a picconate il muro di amianto della palestra da qui poi si sono sollevate le preoccupazioni degli utenti e dei grillini che ieri hanno presentato un'interrogazione in consiglio comunale per chiarire se quanto accaduto possa provocare dei seri rischi per chi frequenta la struttura ieri intanto è stato effettuato un sopralluogo erano presenti il comune di Fano in quanto a un contratto di comodato d'uso dell'edificio la provincia che è la proprietaria dell'immobile l'Asur il tecnico dell'ufficio ambiente e quello che si occupa di amianto oltre alla sport management e ai gestori della palestra si è ritenuto che è talmente circoscritta la zona di poter sigillare la porta della palestra e dividere i due ambienti e continuare il funzionamento della piscina a dar forza a questa decisione c'è anche una nota dell'Asur che visto il punto dove è stato realizzato il fatto e anche il fatto che ci fosse un armadio molto pesante per cui i ladri hanno dovuto scavare con il piccone e il materiale è stato tutto depositato all'esterno e all'interno ci è finito veramente pochissimo materiale si è ritenuto di andare avanti su questa strada per quanto riguarda la palestra invece? la palestra è più problematica la situazione perché ha diretto contatto faremo gli esami ARPAM tramite l'ARPAM in giornata e ci vorrà forse qualche giorno e non ci sentiamo assolutamente di riaprire l'attività e soprattutto secondo me anche fin quando non smaltiamo il materiale l'esito degli esami quando si potrà avere? un campione di amianto è già stato portato all'ARPAM e su quello si stanno lavorando poi c'è parallelamente un campione di aria di eventuale dispersione in palestra e di eventuale precauzionale in piscina e per quello penso ci vogliono due giorni ed ora parliamo del tratto ferroviario tra Fano e Urbino con 20 voti favorevoli e 7 contrari il Consiglio regionale ha approvato una mozione con cui impegna la Regione a chiedere alle ferrovie la revoca del decreto di dismissione della linea Fano-Urbino e proporre il trasferimento gratuito della titolarità della tratta delle ferrovie alla Regione Marche piena soddisfazione espressa dai consiglieri Danna e Zaffini che ora hanno pronta un'altra mozione che prevede la modifica del piano infrastrutture trasporto e logistico della Regione Marche parliamo della giornata del malato il Vescovo di Fano Armando Trasarti oltre alle visite negli ospedali della diocesi in occasione della giornata del malato domani pomeriggio presiderà una santa messa in Duomo alle ore 16 durante la quale verrà celebrato il sacramento dell'unzione degli infermi bene e adesso chiudiamo questa edizione del telegiornale parlando del Carnevale una settimana densa di appuntamenti chiuderà l'edizione 2015 del Carnevale Fanese vediamo tutto quello che c'è da sapere è indirittura di arrivo ma il divertimento e il programma di eventi del Carnevale di Fanon 2015 che chiuderà le sue domeniche di sfilata il 15 febbraio non accendono o diminuire oggi pomeriggio durante la presentazione della tradizionale settimana grassa il presidente Luciano Cecchini ha voluto illustrare i successi ottenuti fino ad oggi come le migliaia di persone a corsa in Viale Gramsci tra cui turisti provenienti da ogni parte della penisola inoltre 5.000 prendigetto venduti 20.000 tagliandi della lotteria consegnati grazie alla collaborazione con le 20 associazioni mentre per quanto riguarda il tesseramento si è già arrivati a quota 700 due appuntamenti grazie a Rai 1 che sarà qui da noi sia nella giornata di domani e con una bella trasmissione dedicata appunto ai prezzi saremo qua al mercato sotto la nostra sede e giovedì invece direttamente in piazza 20 settembre durante il giovedì Grasso ancora una volta le telecamere di Rai 1 con la vita in diretta giovedì Grasso tutti insieme in piazza a seguire le varie feste che nei vari locali si succederanno tra venerdì e sabato dedicato sia ai bambini che agli adulti poi domenica Dulcis in fundo ultimo grande corso mascherato sempre con inizio al mattino con il carnevale dei bambini la moto mascherata che farà raduno al nostro pincio e poi da lì partiranno e gireranno anche Toretta e Marotta e che dire meglio di così si muore poi tutti insieme martedì 17 in piazza per bruciare il pupo quindi buon carnevale a risentirci presto amici di Fano TV il divertimento e il racconto saranno gli ingredienti principali del giovedì Grasso che per il secondo anno consecutivo è stato organizzato in collaborazione con il paese dei balocchi il pomeriggio si aprirà alle 15 in piazza 20 settembre con musica e la presentazione di Corrado Cori poi alle 15.30 con replica alle 17.15 andrà in scena lo spettacolo inedito della compagnia del teatrino rosso della cooperativa Jolly Roger dal titolo Arlecchino pane amore e una bugia scritto e diretto da Simone Ricciatti e a ingresso gratuito per scorso anno avete raccontato come è nata la tradizione di bruciare il pupo quest'anno invece che cosa racconterete? quest'anno raccontiamo invece diciamo come nasce il carnevale a Fano e in particolare la diatriba che c'era fra due famose famiglie cioè fra Guido del Cassero e Angiorello da Carifano quindi sono due famiglie che litigavano alla fine nasce un accordo e poi diciamo non svegliamo il finale è molto carino insomma farete divertire i bambini acculturandoli anche? sì facciamo divertire i bambini con diciamo un po' di satira sotto che riguarda diciamo un po' anche la vita di tutti i giorni e in più anche un genno storico su quello che riguarda proprio Fano la città di Fano che è citata anche con Dante con la Divina Commedia quindi un po' culturale diciamo anche dalle 16 poi subito dopo la proclamazione del sindaco della città del carnevale un ruolo che spetta a Cecchini a meno chi non voglia cederlo ad un'altra persona sono stati organizzati dei laboratori creativi e animazioni per bambini alle 17.45 invece il Teatro della Fortuna ospiterà l'atteso spettacolo Peter Pan Ogni favolo è un gioco venerdì 13 invece sarà inaugurato il secondo trofeo città del carnevale un torneo di basket che si svolgerà fino a martedì 17 febbraio e che darà il via ai numerosi eventi sportivi in programma con il carnevale di Fano che porterà in città centinaia di appassionati con decine di squadre provenienti da tutta Italia Bene con quest'ultima notizia dedicata al carnevale più antico d'Italia si termina qui questa edizione di Occhio alla Notizia vi ricordo che dopo di noi andrà in onda una puntata di Dopocena musicale sull'iniziativa Mi Illumino di Meno e poi un servizio speciale sulla seconda giornata di sfilate del carnevale fanese grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti